bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e oggi ragazzi voglio parlare con voi di un'altra cosa interessantissima che in questa stagione numero 4 di fortnite è stata inserita dal team di epic games lo vedete già alle mie spalle ragazzi questo è il wallpaper lo sfondo che si sblocca non appena abbiamo terminato tutte le sfide della settimana numero 2 oltre ad essere bellissimo e a mostrarci il nostro omega con tanto di maschera e armatura sullo sfondo lì dove c'è il muro rotto reca un bel codice segreto che ci fa trovare una stella segreta cosa vuol dire l'abbiamo già visto settimana scorsa vuol dire un livello del pass battaglia totalmente gratuito per noi abbiamo visto ragazzi settimana scorsa che la stella segreta era sull'angolino della prigione mentre questa settimana su quel muro ci sono delle coordinate che ci indicano precisamente il punto dove dover atterrare per poter recuperare appunto questa stella intanto ragazzi mentre aspettiamo qualche istante che porta il gameplay in modo da vedere assieme il punto preciso volevo parlare insieme a voi di questo aggiornamento di come sta proseguendo questo aggiornamento su fortnite io ritengo che abbiano inserito degli elementi veramente meravigliosi prima di andare avanti vi sto mostrando ragazzi in questo preciso istante il punto esatto di discesa della stella la vedete praticamente è nell'angolino tra le quattro coordinate a3 b3 c3 e non mi ricordo l'altra coordinata qual'era comunque è facilmente intuibile perché in quel punto che vi ho segnato c'è una piccola porzione di terreno che non ha erba quindi è molto molto intuitivo trovare la stella io sto apprezzando veramente tantissimo questa stagione perché stanno inserendo ogni settimana un sacco di cose che migliorano continuamente il gioco le sfide mi stanno piacendo tantissimo e l'idea che hanno avuto di inserire appunto questi obiettivi settimanali extra che poi vanno anche a sbloccarti oggetti extra secondo me è vincente come vedete c'è già qualcuno che sta andando a prendere la stellina ragazzi il punto è esattamente qui non ci prenderà picconate ti prego lasciaci stare lasciaci stare prendiamo la stellina partiamo con il fight ma direi che non è questo il momento di vedere i combattimenti non lo dite a nessuno che ho perso contro il piccone no ragazzi mi raccomando se non lo avete ancora fatto quello che vi ho appena fatto vedere anzi torniamo indietro di pochi secondi così la vediamo ancora meglio eccolo qua ragazzi questo è il punto esatto dove trovare la stella segreta vi ricordo ragazzi prima di lasciarci di lasciare un bel like se vi è piaciuto questo video ma soprattutto di condividerlo con tutti i vostri amici iscrivetevi al canale perché ogni giorno al raggiungimento di un certo numero di iscritti noi regaliamo un bel buono da 10 euro che potete spendere come preferite non dovete fare altro che iscrivervi al canale noi ci vediamo in live ciao 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 ciao